vado a vedere cosa fa il Michele prima ah così, solo perché arrivo e tiri già dosso i sassi cosa devi fare? cosa devi fare così? dai, dammi vedere sotto, no, sotto vai riscaldamento sui riscaldamento 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 Alla prossima! Grazie a tutti. Albero? Non me la ricordo. Non mi la ricordo. Non mi la ricordo. Non mi la ricordo.